Sono 103 le strutture turistiche della provincia di Arezzo tra ristoranti, alberghi e agriturismi che possono fregiarsi per il 2016 dell'importante riconoscimento Ospitalità Italiana. Un marchio che la Camera di Commercio di Arezzo riconosce in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Ricerche e Turistiche e che assegna dal 2004 in maniera totalmente gratuita. Quality Hotel, Quality Restaurant è un marchio riconosciuto a livello europeo, ci sono dei siti specializzati, c'è un portale che contraddistingue le imprese europee che hanno questo marchio Quality. Questo perché, come è evidente ormai nell'evoluzione turistica, il turista cerca sì un'emozione quando fa un viaggio ma cerca soprattutto la qualità del servizio. investe il suo tempo libero in un'esperienza di viaggio ma vuole la qualità. Ecco, questo servizio di Quality Hotel, Quality Restaurant certifica di fronte al turista la qualità dell'offerta. Devo anche dire che è un marchio difficile da ottenere, ci sono degli ispettori, dei verificatori che si recano in azienda, verificano il rispetto di tutta una serie di norme, di decaloghi, di dispositivi e disposizione ovviamente di qualità e di garanzia dell'offerta, dopodiché c'è la possibilità di ottenere il marchio. Quindi è un percorso al termine nel quale lo si ottiene, ripeto, per la qualificazione di un sistema turistico provinciale. Grazie. Grazie. Grazie.